Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi con questa piccola scatolina, ma va sicuro un grande gioco, vi voglio presentare Solar Storm, un gioco in edizione che vedete qui davanti, inglese, della Dranda Games, che io ringrazio di cuore per avermi offerto questa copia per la recensione. Grazie, è veramente un piacere e un onore poter collaborare con voi. Gioco cooperativo da 1 a 4 giocatori, della durata media, forse una partita di un'oretta massimo, ed è un gioco cooperativo molto 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 interessante che ricordo ora, ma ve lo ricordo velocemente anche a fine, al momento lo stanno portando in Italia la Jockey X con un Jockey Starter che vi lascio come primo link in descrizione. Quindi andate a vedere perché lo stanno portando in italiano in una versione Kickstarter, lo sapete, il Jockey Starter praticamente è il loro Kickstarter privato e personale. Andate a vedere, vi lascio il link. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Solar Storm, come è detto un gioco da 1 a 4 giocatori della Dranda Games, è un gioco molto interessante di posizionamento, raccolta risorse e risoluzione dei problemi, perché vi trovate a bordo di una nave stellare il cui nucleo ovviamente ha perso di energia, ha perso di potere. E' la cosa brutta che ha perso di potere durante una missione di pattugliamento comunque a livello scientifico nelle vicinanze del Sole, di una stella. E quindi il motore non funzionando più, il core che dovete riattivare, che sennò i motori della nave non si attivano, la nave è nel mezzo a una bella e propria tempesta solare. Quindi vi potete immaginare cosa può succedere, come se visto anche nel film ad esempio Sunshine, che io adoro, mi garba da morire, una nave cui i scudi sono abbassati, si trova in prossimità di una stella, soprattutto durante un'eruzione solare, è la fine. E il gioco è molto semplice, perché alla fine noi siamo l'equipaggio di questa nave, mai competitiva, un gioco solo cooperativo, dove dobbiamo muoverci per i settori della nave a riparare tutti quanti i danni, prima che la carta finale del mazzo venga rivelata, che è l'ulbriccio, e quindi veramente il buco, il foro nella struttura della nave, e quindi il collasso e la distruzione della nave e la perdita dell'equipaggio. Voi dovete riuscire a mettere a posto la nave, convogliare l'energia nel core, e una volta che l'avete convogliata la nave avrà abbastanza spinta per andare via dalla zona rischiosa, dalla zona rossa appunto della tempesta solare. Quindi è un gioco fondamentalmente molto facile, che si intavola bene e poi è piccolino. Classico gioco portatile che porti ovunque. Vi faccio vedere un pochino come funziona, ma prima di tutto, unboxing. Vedete la scatolina, piccola rispetto alla mano, che fa vedere questa flotta di navi che inizialmente vengono distrutte e inghiottite dalla tempesta solare, e la vostra, che è prossima praticamente alla distruzione. Dovete riattivare il core per riuscire a sfuggire. Gioco della Dranda Games. Apriamo. Regolamento piccolissimo, anche qui illustrato veramente bene. Poi pieno zeppo di esempi, quindi anche di facile lettura e consultazione, che ci fa vedere il setup iniziale delle stanze, come vengono messe, e tutte quante le regole. Queste qui sono le carte, ad esempio, risorse. Poi dentro abbiamo i cubetti, che i cubetti vi ricordo essere quelli che dovete mettere nelle stanze per ricordare se una stanza è riparata o distrutta. Di solito quando una stanza ha tre cubetti vuol dire che è totalmente riparata. Poi c'è un dado, per varie azioni, tipo l'azione di riparare, azioni varie nel gioco hanno bisogno, richiedono il tiro di un dado. Per linee di silica, ovviamente per l'umidità, per conservare il tutto. Piccoli meeple di legno, che si possono tranquillamente pimpare, che vanno a rispecchiare l'equipaggio della nave. E poi abbiamo tutte quante le carte all'interno, che sono le carte danno, che vi fanno vedere dove il capitano danno è all'interno della nave. Carte risorsa, queste qui sono le varie risorse che possono essere trovate in gioco. E poi altri mazzi di carte, anche questi, carte risorsa, zone della nave e quant'altro. Poi un pochino di bustine per conservare tutto quanto. E qua giù in fondo abbiamo i token, che sono praticamente i token per convogliare l'energia. Quando una stanza è completamente riparata e l'energia è convogliata al nucleo, ci mettete uno di questi simboli. Poi il simbolo scudo, quando dall'armeria usate l'azione speciale per andare a dare un bonus di difesa alla zona. E questi token con il più sono molto interessanti, perché se voi in un turno volete fare un'azione delle vostre tre, e dite, le altre due non mi servono, tanto quello che devo fare l'ho fatto, potete conservarle e prendere per ogni azione che avete conservato un più uno da usare nel turno dopo. Quindi nel turno dopo magari non farete tre azioni, ne potete fare tre più due che avete, quindi fino a cinque. Vi faccio vedere un po' come funziona. Il setup del gioco è molto facile, dovete prendere le stanze e dovete pescarle. Casualmente mettere il core al centro e tutte le altre stanze intorno. Praticamente dovete mettere nove carte, tre per fila, tre, 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 col core che deve essere sempre nel mezzo. Quindi nel punto cinque, per farvi capire il centrale. Voi dovete, lo scopo del gioco, ognuno dei giocatori quando fa il suo turno ha tre azioni, che possono essere anche sempre la stessa, puoi fare più volte la stessa azione, il gioco non ti dà limitazione. E possono essere spostarsi ortogonalmente, mai in diagonale, quindi nelle stanze, dalla stanza cinque alla stanza sei ad esempio, però dalla stanza cinque alla stanza tre non mi posso spostare, dovrei prima passare in una connessa ortogonalmente. Le azioni che si possono fare sono usare l'azione della stanza, che magari l'armeria ti dà gli scudi a una zona, quindi ti permette di non far prendere danni. Un'azione di ricerca per prendere risorse, cercare risorse, che ora poi vi dico a cosa servono, oppure anche un'azione di repair, riparazione. Se c'hai le risorse giuste vai a riparare quella zona a seconda del tipo di risorsa che chiede, magari chiede una risorsa verde o una risorsa blu, se non ce l'hai non la puoi riparare. Comunque riparata quella zona lì, rimettete un cubetto, perché dopo che le zone hanno subito tre danni, quindi hanno perso tre cubetti, la zona viene distrutta, e se una sola zona della nave viene distrutta, non c'ha più cubetti e ce ne dovete andare a mettere un altro, la nave esplode, partita persa. Quindi non dovete mai far rompere nessuna stanza. Dovete fare l'azione, vi potete passare ovviamente risorse fra giocatori, e lo scopo principale è che dovete attivare le stanze che convoglino l'energia al nucleo. Quindi voi dovete attivare tutte quante le stanze, che dovrebbero mi sembra essere un minimo di cinque, comunque dovete attivare l'energia in tutte le stanze, e per farlo la stanza deve essere completamente riparata. Quindi quando la stanza è completamente riparata, voi potete dire, ok, questa stanza va a convogliare l'energia al nucleo, ci mettete un token sopra per far presente che ormai l'energia lì è stata convogliata, e deve essere completamente riparata, non potete farlo con una stanza rotta, prima deve essere completamente riparata. Quindi quando tutte queste stanze hanno convogliato l'energia al nucleo, avete vinto. La partita si perde semplicemente quando dovete andare a pescare una carta da un mazzo risorse, e le risorse sono finite, partita persa, quindi ve le dovete giocare bene, o quando una stanza viene completamente distrutta e quindi avete perso la partita. Quindi vedete che come gioco è veramente molto facile, poi ci sarebbe qualcosina in più da spiegare. Però l'idea principale è questa qui, riparare tutte quante le stanze, perché quando avete finito il turno di tutti i giocatori c'è la fase degli eventi. Andate a girare delle carte dal mazzo degli eventi e magari viene fuori, che ne so, l'armeria e l'infermeria subiscono un danno e due. Quindi magari l'armeria, sì, un danno lo può ancora prendere. Di là, quanti danni ha subito? Non ha subito i due. Eh ma ci va soltanto uno scudo. Distrutta, partita persa. Quindi dovete sempre stare pronti a muovervi e andare a riparare le zone per poi convogliare energia e andare via. Quindi comunque il gioco a livello di regole, ragazzi, è veramente una buffonata e bene che sia così. In conclusione, questo gioco qui, Solar Storm, è veramente facilissimo. Il regolamento basta una volta per leggere e averlo capito, ed è un gioco interessante. Sicuramente non è il gioco rivoluzione spaziale o di un'equipaggio spaziale perché è molto veloce. Quello che devi fare, ti devi muovere per la nave, riparare le istanze prima che esplodano. Basta, è convogliare l'energia al centro. Non è che c'è tantissima strategia. Più che altro vanno usate bene le risorse. Perché se le risorse vengano prese troppe o sprecate nel modo più sbagliato possibile immaginabile, quando poi vi serve per fare un'altra cosa, ma quel tipo di risorsa è finita, non ce l'ha in mano in quel momento per riparare l'ultimo danno di rottura di una stanza e la partita è finita, la nave scoppia. Quindi comunque ci deve essere una coordinazione in un gioco che si può giocare tranquillamente in solitario. Quindi, passato a pienissimi voti, e poi è un gioco che costa poco. Una scatolina così, se non erro, ma primo link in descrizione della GiochiX, versione italiana, giochi starter, dovrebbe costare, non voglio dire una cavolata, comunque controllate, mi sembra, dovrebbe costare 15 euro, 15 euro, se fate il Giochi starter, o ne dovrebbe costare tipo 35 una volta che sarà uscito. Quindi è un prodotto piccolino, però è divertente, ragazzi. È fatto veramente, veramente bene e vi fa, vi mette l'adrenalina addosso perché vi fa sentire veramente come in quel film Sunshine che c'è da andare a riparare sta benedetta nave perché da un momento all'altro potrebbe esplodere. Ed è una figata assurda. Quindi, versione italiana, fate il Giochi starter. Se lo volete in versione inglese, vedete, secondo link in descrizione e in sovrimpressione, dalla Gioco Libri della Sebola, nostro negozio sponsor, lo potete trovare al miglior prezzo sul mercato. Se, nel caso, il gioco non fosse presente nella lista, mi raccomando, sempre contattate il servizio clienti, con Radol, titolare, e ditegli, arrivo dal canale di Coridan, si può avere questo gioco, ripeto, in versione inglese, se no dovete passare dal Giochi starter, si può avere, lui farà il possibile per trovarvelo, se si può trovare, al miglior prezzo sul mercato e qualsiasi acquisto che facciate da tutto il suo catalogo, Wargame, Boardgame, colori e quant'altro, usate sempre, come vedete, il codice sconto Coridan 7 per avere un discount e uno sconto del 7% su tutti gli acquisti. E per ordini superiori ai 79 euro, non pagate nemmeno le spese postali, in tutta Europa. Quindi, comunque, il servizio è molto, molto, molto buono, per non dire eccellente. Io ringrazio ancora una volta Adranda Games e ragazzi, è un giochino piccolino, veloce, divertente, si intavola e ci si diverte. Magari con una bella colonna sonora tipo Interstellar di sottofondo ci sta anche meglio. Ciao ragazzi, alla prossima.